buongiorno e benvenuti a scenari economici oggi vogliamo parlarvi di africa e vi parliamo di tazzara tazzara è una ferrovia costruita dalla cina 50 anni fa che conduce dalla tanzania fino allo zambia da dera salam fino al cuore dello zambia che non ha la possibilità che non ha nessuno sbocco al mare e quindi è una ferrovia molto importante per quello che è il commercio dei minerali o i commerci generali per dall'africa dal cuore dell'africa verso il mare e quindi verso la cina questa ferrovia fu costruita 50 anni fa circa dal lì dalla cina con la finalità di permettere allo zambia di commerciare col mondo esterno evitando di passare per paesi che all'epoca avevano il l'apartheid come il sud africa e la rhodesia ma poi in questi 50 anni non ha ricevuto molti lavori di manutenzione quindi è quasi abbandonata ora la cina ha deciso di investire un miliardo di dollari in cambio di 30 anni di concessione della di questa grande ferrovia perché adesso la cina si interessa questa ferrovia perché vuole contrastare un'iniziativa degli user dell'europa relativa al corridoio di lobito corridoio di lobito è invece un'altra ferrovia che parte dall'angola e arriva sempre nello zambia e che sarà molto utile per l'esportazione dei metalli rari e di altre materie prime di produzione africana quindi via una concorrenza diretta tra cina e europa paesi occidentali per poter collegare l'africa e costruire infrastrutture che permettano di portare le materie prime africane verso l'esterno speriamo che almeno gli africani possano in questo caso vantaggiarsi di questa concorrenza internazionale grazie e venite a leggere questo articolo su scenari economici grazie a tutti grazie a tutti